La prolungata chiusura del Tempio Osario è una ferita aperta, un dolore che si rinnova ad ogni passaggio dei Bassanesi di fronte a questo imponente sacrario i cui ingressi rimangono sbarrati da anni. Una chiusura tanto più grave ora che si avvicinano le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Vedo da qualche anno lo stato di abbandono dell'Osario, non si capisce bene se viene gestito dalla regione, se è interessato il comune, in ogni caso c'è un abbandono veramente, come si dice, che fa passione. C'è una cosa buona perché ci sono anche là tante morti, possono anche ricordare, anche tenerlo aperto, fare delle spese per poter andare avanti. Mi sembra che sia illogico che resta il chiuso in un anniversario del genere, lui questi soldi bisogna pure trovare lì fuori perché sembra che hanno speso già parecchie centinaia di migliaia di euro per rifare tutti i tetti e rifare le due facciate esterne. Non credo che ci vogliono anche per farlo riaprirle. È una vergogna veramente, una bella roba così, lasciarla andare, che che c'è? È una vergogna.